Buon pomeriggio e buon viaggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Mauro Ciutini. Al momento vengono segnalate code in A1 tra Arezzo e Monte San Savino, la direzione è quella per Roma. Attenzione anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, personale su strada tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est. Tornando in A1 ci sono lavori anche tra Sasso Marconi e Roncobilaccio in entrambe le direzioni. Quanto riguarda gli aerei, quello da Pisa all'Isola d'Elba, volo diretto delle 15.35 è stato annullato. Cancellati anche i traghetti da Piombino a Cavo-Porto-Ferraio delle 16.05. È tutto per il momento, muoversi in Toscana con Regione Toscana, Città, Metropolitana, Comune di Firenze. Grazie a tutti.